Se hai già sentito parlare di riprogrammazione mentale, questo video fa assolutamente per te. Se non hai mai sentito parlare di questo argomento, questo video fa doppiamente assolutamente per te. Apri bene le orecchie perché il topic di cui ti parlo ti renderà conscio l'inconscio, in modo che tu possa prenderlo e trasformarlo in un qualcosa di utile e smetterla di chiamarlo destino quando arriverai a 75 anni e non hai vissuto la vita che volevi. La realtà è che se tu volessi, tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile. Per cosa guadagni queste soldi? Partiamo da un presupposto che è se noi non cambiamo il nostro subconscio, la nostra vita non cambia. E il nostro subconscio non è fatto di questo video YouTube. Questo video YouTube entra nel tuo conscio, entra nella tua parte razionale, nella tua parte che comprende, che capisce, che riconosce certe cose ma che non ha veramente immagazzinato il meccanismo di per sé. Non possiede la materia. Stai ascoltando con le orecchie ma non possiedi la materia. Finito questo video YouTube. È chiaro, altrimenti tutte quante le persone che guardano il mio canale YouTube sarebbero tutte quante multimilionarie. Perché questo non è così? Perché è chiaro che dalla teoria alla pratica e quindi alla pratica ripetuta che porta all'immagazzinamento, quello che sia, della pratica di per sé e quindi fai in modo che tu possegga la materia, che tu own your shit, che tu hai fatto quelle cose che ti hanno portato a superare quelle paure, quei limiti, hai sviluppato quelle abitudini, quel modo di pensare che ti porta in qualche modo veramente a essere quella persona. E quindi solo lì tu puoi dire di avere portato dal conscio al subconscio, quindi nel tuo DNA, usiamo questo termine, ok? Quella che è una certa materia, una certa pratica, una certa idea di te e avanti così. Quindi il processo devi immaginarti che è sempre dalla teoria, ok? Per arrivare a essere un'abitudine forzata, sai, noi classici 21 giorni, tre mesi, mi sveglio prima, smetto di fumare, smetto di bere alcol, inizio a fare sport, inizio a fare un business. Per darla abitudine forzata a un'abitudine necessaria, perché a te interessa, perché ti fa star bene, si è sviluppato una nuova forma di vivere, a diventare alla fine una seconda natura, cioè diventa per te una cosa imprescindibile per la tua vita. Questo è il processo tramite il quale tu, e solo tu in quel caso lì, puoi pensare di davvero esserti riprogrammato, il che richiede ovviamente tempo. Dunque il tempo chiaramente è una componente. Se tu guardi questo business e pensi che per cambiarti la vita, usiamo questo termine forte, per comunque poter pensare di prendere il controllo sulle redini della vita e poter essere conscio e consapevole che tu da qua ai prossimi 10, 20, 30, 40, 50 anni deciderai dove andare, nonostante non tutto lo decidiamo noi, nonostante sarà complesso, nonostante ci succederanno delle cose imprevedibili, ma comunque tu sai che la maggior parte della direzione di vita la scegli tu, è necessario darti del tempo. Non si può pensare di cambiare vita in un anno, in due anni, in tre anni, ma neanche in cinque, ma neanche in dieci tra un po'. Certo, puoi già cambiare vita in un giorno, in realtà ogni singolo secondo puoi prendere una decisione su come vivere quel secondo, su con che intensità, con che energia, e quindi alla settimana, e quindi l'anno, e quindi il mese, e quindi i cinque anni, certo. Però realmente per andare a riprogrammare la nostra mente, quindi stravolgere chi noi siamo, stravolgere realmente chi noi siamo, mettere in critica tutto quello che ci hanno insegnato, ricostruirlo come pezzi del puzzle, un pezzo alla volta, a nostra scelta e somiglianza, ok, come noi vogliamo, interpretando il mondo secondo delle nuove regole, dei nuovi codici, dei nuovi linguaggi, ci serve tempo. La media sono sette anni, sette anni per riuscire davvero ad avere un cambiamento importante nella propria vita. Se io penso a me, i miei primi due anni di business, i miei primi due anni nel mondo dell'imprenditoria, già avevo fatto dei cambiamenti impressionanti, già mi ero cambiato la vita, ma se oggi mi riguardo indietro, mi rendo conto che ero una persona che non aveva ancora capito niente. Se faccio lo stesso processo a quattro anni, uguale, e a sei anni, uguale, ad oggi sono nelle otto anni di attività, e sono sicuro che tra cinque anni guarderò indietro e dirò, porca troia, cinque anni fa, ero veramente inconsapevole di una marea di cose, e questo processo è un processo infinito. Ed è il motivo per cui, quando uno entra nell'ottica della riprogrammazione della mia vita, cambiare vita, prendere in mano la mia vita, poter decidere dove andare a finire, come voglio morire, dove voglio morire, che tipo di vita voglio fare, devo darmi tempo. Decisione in primis, e la decisione deve essere, me la cambio ma mi do tempo, perché senza tempo scatta l'ansia, scatta la preoccupazione, scatta la paura del fallimento, ma non esiste la paura del fallimento, se tu comprendi quella che è la riprogrammazione mentale, cioè la gara è nel costruire una mente che possa manifestare cose nel mondo reale di un certo tipo, grazie ad azioni, generate dalle emozioni che i tuoi pensieri generano. Oggi ti voglio dare una riflessione però, pratica, affinché tu possa portarla nella tua vita, e utilizzarla per realmente osservare, e renderti consapevole del modo in cui pensi oggi. Perché quando si parla di riprogrammazione, certo c'è chi parla di scrivere tutti i giorni, addirittura con la mano sinistra, per riprogrammare meglio, scrivere i tuoi obiettivi, c'è chi parla di leggere un libro, c'è chi parla di ascoltare, ripetere cose, e sono tutte cose verissime, verissime, che ho fatto per anni, faccio ancora oggi e così via. Oggi però voglio darti un angolo di attacco diverso, perché non solo io devo cercare di sovrascrivere un nuovo modo di vivere, di pensare, di essere, su quella che è la mia scrittura precedente, ma se io mi riesco a rendere conto di qual è la mia scrittura precedente e di cosa l'ha generata, questo mix, questo binomio, riesce a permettermi di trasformarla in energia di cambiamento. Perché se io mi rendo conto che il modo in cui io penso riguardo il matrimonio, il successo, i soldi, l'amore, il business, l'immagine di me, il mio sorriso, la mia corporatura, le amicizie, il business, insomma, si scende anche nei micro, 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 micro dettagli, se io riesco a rendermi conto come mai penso in quel modo lì e soprattutto qual è quel modo lì e notare quali sono quelle cose che faccio in automatico senza rendermene conto, allora lì posso avviare l'energia del cambiamento e sovrascrivere in maniera più rapida perché so cosa c'è da sostituire ancora prima di quello che c'è da mettere. l'esercizio quindi che ho per te è nota con attenzione, sforzati di vedere quello che fai quando non te ne rendi conto. Cioè quando sei in flow, che ti stai lavando i denti, che sei sul cesso, che stai guidando, che stai ascoltando una canzone, che gridi le lyrics di una canzone, quali lyrics gridi nello specifico su tutti i tre minuti e trentatré di una canzone, quando sei in doccia, a cosa pensi? Prima di andare a dormire, quali sono le ultime emozioni che provi? Quando sei con gli amici, quali sono le dinamiche relazionali tra di voi? Quanto tu sei già la persona che vorresti essere? Quanto i tuoi pensieri sono pensieri molto motivanti? Ecco, se tu riesci a quando normalmente non te ne rendi conto, invece renderti conto di dire come mai tutte le volte che questa persona mi scrive mi vengono i brividi? Come mai tutte le volte che penso a questa cosa mi chiudo? Come mai ho pensato questo processo al posto che quest'altro? Ecco, quando tu inizierai a fare questo lavoro, quando nessuno lo vede, perché la gente pensa che la riprogrammazione sia solo scrivi, parla di, opera, leggi libri, ripeti nelle orecchie, certo, ci mancherebbe, però è tantissimo il wow, come mai mi sono comportato così con questa donna o con questo uomo? come mai le battute che faccio tendono sempre a essere di questo stile? Come mai con i miei amici l'interazione è questa? Come mai continuamente mi rispondono in questo modo e ad altri rispondono in un altro modo? Qual è la dinamica? Perché se noi ci rendiamo conto che tutto è attratto da chi noi siamo, dalla nostra mente, le nostre emozioni e quindi le nostre vibrazioni nell'universo, le cose cambiano rapidamente e te lo dice una persona che ancora oggi, ti parlo di ieri sera, fa questo stesso ragionamento, mentre si lava i denti, dice, perché parto a lavarmi i denti sempre da destra? È una considerazione stupida, ma ti fa riflettere, perché ovviamente non ti vengo a dire i cazzi miei, delle mie cose che io riprogrammo, ma ti posso garantire che ancora oggi, wow, il mio processo di riprogrammazione è molto importante, molto importante del quotidiano, ma perché? Perché è così forever, non si arriva mai a un punto in cui hai finito, perché se c'è un next level di cosa da raggiungere, c'è anche un next level di persona da diventare, ed è qui che la passione diventa per il gioco, perché lo sai perfettamente che non è più uno sport di quanti soldi vuoi guadagnare a un certo punto, o quale altra villa Bali posso prenotare, ma diventa uno sport del sono felice così come sono e con questa energia interiore vado a riprogrammarmi per diventare il meglio, per prendermi tutto, ok? Una buona visione per questo video YouTube, per i prossimi video che usciranno, iscriviti al canale, se ti fa piacere mandami un messaggio su Instagram, mandami un messaggio qua nei commenti, quello che vuoi tu, io ci tengo a condividere con te le informazioni pratiche con, un po' segrete diciamola così, non banali, non mainstream, però ho bisogno di te, ho bisogno che tu mandi questo video a delle persone che sai che ne hanno bisogno e la seconda cosa mi lasci un commento, metti un like, dimmi cosa non ti piace, cosa ti piace, quello che vuoi, però costruiamolo insieme, va bene? Un abbraccio grosso da Bali.